Presidente, una breve perbariviva, San Nicola è appena terminato la messa, le tradizioni, la cioccolata e poi cos'altro succederà oggi? Beh, speriamo un po' di aiuto per il lavoro che facciamo tutti i giorni, perché San Nicola mi ha sempre aiutato, lo confesso, sia quando ho fatto il sindaco, sia in questi anni molto duri. Ognuno di noi chiede un sostegno, immagino, veniamo qui da lui soprattutto per questo. Grazie.